Gli attori sono migliorati poiché hanno sperimentato un altro match. E' un altro metodo di recitazione, visto che negli anni precedenti il saggio era strutturato sulla recitazione direttamente nel palcoscenico, mentre per Mariana Pineda è stato girato un cortometraggio, un mediometraggio, quindi hanno sperimentato un altro metodo di recitazione. Questa casa è la bella del campiglio! Angustia! Che bambina! Sta ferma! Che buona mela! E Mariana? Non esce? Che buona mela! Mariana? Che buona mela? Che buona mela? Che buona mela! Che buona mela? Che buona mela! Che buona mela! Che buona mela! perché sa che lui la porterà in un certo senso alla rovina, alla morte, quindi lei non vuole che lei si rovini per lui. Mantieni di calma, non è tuo marito. Hai ragione come sempre, ma non posso.